Amici avventurieri, bentornati sul canale Ditelo Do Yoel Dungeon. Io sono Lorenzo e sono il vostro Dungeon Master Vintage. Sono già passati un po' di giorni dall'uscita del sesto PDF sul playtest di One D&D, la nuova versione di Dungeons & Dragons che entrerà in vigore dal 2024. Sul mio canale sto dedicando una serie di approfondimenti alle novità introdotte da One D&D e in modo particolare finora, dal 29 giugno, ho pubblicato un approfondimento sulla classe del Monaco e sulla classe del Druido. Ora invece mi sto dedicando alla classe del Paladino e ho deciso di dividere questo approfondimento in due parti. Una prima che trovate già pubblicata e che riguarda solo la punizione divina. Sì, perché nel nuovo Paladino proposto da One D&D, versione 2, la punizione divina è diventato un incantesimo. Ma in questo video quindi che cosa troverete? Beh, allora, escluso la punizione divina e gli incantesimi di tipo punizione che sono già stati trattati nel precedente video, in questo video invece affronteremo livello per livello il Paladino. No, no, non preoccupate, cercherò di fare una cosa molto veloce. E poi le tre sottoclassi. Troverete quindi da metà o verso la fine di questo video il giuramento degli antichi, il giuramento di devozione e il giuramento della gloria. Quindi, bando alle ciance! Magia, magia, magia! Confronterò questa seconda versione del Paladino, naturalmente con il Paladino pubblicato sul manuale del giocatore a pagina 96. La prima cosa che vi dico è intanto che i privilegi di classe di pagina 97 sono stati tutti confermati. Quindi abilità primaria di classe, che è la forza e il carisma, naturalmente da di vita ai punti ferita, ai tiri salvezza, competenze in armia matura. Non è cambiato niente. Naturalmente anche il bonus di competenza che è uguale per tutti i personaggi, Paladino compreso. Se andiamo però a fare un piccolo confronto con il Paladino prima versione pubblicato per One D&D, troviamo una piccola grande differenza. Innanzitutto è sparito l'epic boom di ventesimo livello, cioè quel talento epico che veniva dato al ventesimo livello di tutte le classi. No, in questo sesto pdf di playtest tutti gli epic boom sono spariti, almeno finora nelle classi che ho affrontato. E poi, se ricordate, tutte le classi dovevano prendere le sottoclassi a dei livelli fissi, cioè al terzo, al sesto, decimo, quattordicesimo livello. Mi pare che qui invece si sia fatto un passo indietro e in questa seconda versione del Paladino troviamo quindi confermati i livelli di sottoclasse della quinta edizione. Quindi la sottoclasse, il Paladino, cioè i privilegi del giuramento, lo prendono al settimo, scusate, mi sto impoperando, al terzo, settimo, quindicesimo e ventesimo. Ora però, se andiamo a prendere la nuova tabella con l'avanzamento dei livelli del Paladino, che vi metterò qui, vedrete che c'è fin da subito una grande novità. Innanzitutto, il Paladino possiede due slot di primo livello al primo livello da Paladino, cioè possiede incantesimi anche al primo livello da Paladino, mentre nella quinta edizione al primo livello il Paladino partiva senza slot. Inoltre c'è un'altra novità, vedrete che c'è una colonna che si chiama incantesimi preparati, ovvero sia il Paladino non prepara più un numero di incantesimi pari al proprio bonus carisma più metà del livello del Paladino, ma prepara il numero di incantesimi indicati nella colonna, quindi parte da 2 e termina a 15. Sempre questa tabella ci dice un'altra cosa interessante, ovvero sia vedete che c'è una colonna dell'incanalare divinità. Finora nella quinta edizione non c'era bisogno di questa colonna, in quanto un Paladino possedeva solo un potere, uno slot diciamo, di incanalare divinità, che poteva utilizzare per i suoi poteri, giuramenti, insomma, per le cose che già conosciamo. Ora invece vediamo che dal terzo livello il Paladino possiede incanalare divinità con 2 cariche, e poi affronteremo questa cosa. Però è interessante vedere che quindi parte da 2 cariche, che è già quindi migliore rispetto alla quinta edizione, e poi dal undicesimo, mi sembra, arriva a 3 cariche, che è il suo massimo. Quindi questo è un interessante upgrade. Quindi Paladino al primo livello, questo nuovo Paladino che cosa offre? Allora vediamo, imposizione delle mani, naturalmente la capacità di lancio di incantesimi, e poi la weapon mastery. Andiamo a vedere queste tre caratteristiche. Come vedete non c'è più la percezione del divino, e poi vedremo dove sarà finita. Vediamo pertanto come funziona l'imposizione delle mani. Funziona in maniera molto simile alla quinta edizione, ovvero sia il Paladino possiede questa riserva di punti ferita pari a 5 volte il livello del Paladino. Che cosa può fare con questi punti ferita naturalmente? Beh, può curare. Soltanto che mentre nella quinta edizione doveva utilizzare un action, quindi un'azione, quindi perdeva la possibilità di fare gli attacchi in quel turno, e quindi doveva scegliere se curare o curarsi, oppure attaccare o fare dell'altro, che non so, lanciare un incantesimo. Invece in One D&D hanno fatto una cosa intelligente, l'imposizione delle mani è diventata un'azione bonus. Beh, questo è veramente un bel upgrade. Ecco, l'imposizione delle mani in One D&D non curerà più le malattie, in quanto, se ho capito bene, la meccanica delle malattie credo che sia decurtata o tolta del tutto, forse perché non è mai stata pienamente recepita nella quinta edizione, non lo so. In compenso, però, può togliere la condizione di avvelenato, che non è male. Sempre al primo livello, il nuovo paladino ottiene la maestria nelle armi, la maestria delle armi nei guerrieri. Quando era uscita la prima versione del paladino per One D&D, la maestria delle armi non era stata ancora pubblicata, forse non era ancora ben affinata, non era stata ancora ben calibrata. Adesso, diciamo, con il PDF numero 5 è uscita la maestria nelle armi. Ho fatto anche un video dedicato a ogni singolo potere. Lo potete trovare qui su YouTube, sul mio canale. Diciamo che è un po' lunghetto, penso una quarantina di minuti, e parlo appunto arma per arma e tipo di maestria per maestria. Comunque, il paladino, anche lui, ottiene la possibilità di applicare la maestria a due armi, a sua scelta, di cui è competente. Naturalmente cosa succede? Esattamente come per il guerriero, come per il monoco, eccetera, e così via, il paladino dorme e la mattina dopo, improvvisamente, si è dimenticato l'uso di un'arma e si può ricordare come funziona la maestra di un'altra arma. Questa cosa qua a me non piace e lo sottolineerò sempre in tutti i miei video. Comunque va bene, insomma, sicuramente la versatilità ci guadagna, insomma, se è come una specie di videogioco e la verosimilianza non è importante, diciamo che è una cosa molto comoda. Concludo questo primo livello con gli incantesimi. Il paladino ha accesso alla lista degli incantesimi di tipo divino. Non c'è più la lista del Chierico, la lista del Druido, la lista del Bardo. C'è la lista primordiale, la lista divina e la lista arcana. Il paladino ha accesso agli incantesimi di tipo divino a tutti quanti. Ne può preparare due e ne può lanciare due. Ha due slot di potere, diciamo, di primo livello, che può utilizzare per lanciare questi due incantesimi preparati. Quindi, attenzione, esattamente come nella quinta funziona il lancio degli incantesimi. Quindi posso lanciare due volte lo stesso e poi termino lo slot, oppure posso lanciare una volta uno e poi una volta l'altro. Posso, naturalmente, se alcuni incantesimi sono di tipo rituale, non consumo lo slot. Però, attenzione, li devo comunque preparare. Non è che li posso lanciare uno qualsiasi preso dalla lista, anche se non l'ho preparato. Ed eccomi, invece, al secondo livello. Siamo ancora all'inizio della strada lunga, cercherò di essere breve. Allora, al secondo livello, il paladino, esattamente come Quint nella quinta edizione, prende uno stile di combattimento, che sono rimasti per ora citati come combattere con armi possenti, difesa, duelare e protezione. Da questo punto di vista qua non è cambiato niente. Invece, il paladino al secondo livello, naturalmente, prende la punizione divina. Però qui è completamente cambiato tutto. Ho fatto un video apposito. La punizione divina è diventata un incantesimo. E non solo. Questo incantesimo può essere lanciato con un'azione bonus. Quindi significa che quando il paladino punisce, di fatto, lancia un incantesimo con l'azione bonus. E quindi ne lancerà al massimo non solo uno a turno, ma proprio uno a round. In quanto non potrà punire, ad esempio, sfruttando un attacco di opportunità. Su questa novità e su una mini lista di incantesimi esclusivi del paladino, vi invito, naturalmente, di andare in cerca, di andare a prendere il video dedicato. Qui non dirò altro, altrimenti poi il video diventa troppo lungo. Invece, ora, passiamo al terzo livello. Al terzo livello, il paladino prende, naturalmente, la sottoclasse, come vi ho detto prima. Adesso, ogni volta che entreremo, tipo, al terzo, al settimo, quindicesimo, ventesimo, non vi dico che prenda la sottoclasse. Lo sapete già. Lo salto direttamente nel video. Invece, è importante questo terzo divino, questo terzo livello da paladino, perché prende, finalmente, incanalare divinità, con due cariche. Quindi, rispetto al passato, ha raddoppiato il numero di cariche. Poi abbiamo capito che all'undicesimo diventano ben tre cariche. Allora, che cosa può fare con incanalare divinità? Allora, il potere di primo livello, che noi conoscevamo come percezione del divino, è diventato un potere a carica di incanalare divinità. Quindi, in effetti, rispetto a prima, potrebbe essere che avete gran poche cariche di incanalare divinità rispetto agli usi che prima avevate di percezione del divino. Sempre al terzo livello, però, sappiamo che, penso, tutte le sottoclassi offrono un potere di incanalare divinità aggiuntivo. Quindi, diciamo che tutti, al terzo livello, hanno la percezione del divino e poi un altro potere ancora, che può essere utilizzato con le cariche di incanalare divinità. Quindi, dal punto di vista di percezione del divino, ci ha perso, perché sicuramente ne lancia meno di prima. Dal punto di vista, invece, dei poteri speciali dei giuramenti, che si utilizzavano con l'incanalare divinità, ci ha guadagnato. Quarto livello, naturalmente, l'aumento delle caratteristiche oppure l'accesso al talento. Quinto livello, per fortuna, è rimasto l'attacco extra, quello non ce l'hanno tolto, almeno. A proposito, anche se è un incantesimo, con l'azione bonus, punire, si può utilizzare, in questo caso, tra i due attacchi extra. Nel tipo, se col primo attacco colpisco, posso lanciare la punizione divina e poi eseguire il secondo attacco extra. Comunque, l'attacco extra, diciamo, non il secondo attacco extra. Comunque, al quinto livello, il paladino ottiene il cavallo goloso. Cavallo fedele. Vediamo che cosa fa il cavallo fedele. Il paladino ha sempre preparato l'incantesimo cavallo goloso, cioè trova cavalcatura, e lo può lanciare una volta al giorno senza consumare slot di incantesimi. Al sesto livello, fortunatamente, rimane la potentissima aura di protezione. Quindi, chi è vicino al paladino guadagna il bonus e tiri salvezza. Questa funziona esattamente come nel paladino della quinta edizione. Poi abbiamo al settimo livello la sottoclasse, l'ottavo livello il talento. Al nonno livello, il paladino guadagna questa nuova caratteristica che si chiama abbiurare i nemici. Funziona come una sorta di scacciare i non morti o scacciare gli immondi. Soltanto che qui il paladino può andare a indicare un numero di nemici pari al proprio bonus carisma. E questi dovranno superare un tiro salvezza. Però non scapperanno come fanno i non morti che si devono allontanare. Ma su di loro invece viene imposto un nuovo tipo di condizione che non esisteva in quinta edizione. Questa condizione viene scritta qui sotto, si scrive DAZED, che in italiano si può tradurre nuovamente come strudito. Però essendosi già la condizione è stardito, quindi può darsi che gli daranno qualche altra, che non so, terminologia tipo confuso o qualcos'altro. Ve la spiego brevemente, così almeno capite che cosa si intende. Allora una creatura che viene diciamo confusa in questa maniera ha un'attività limitata, come è descritto naturalmente nel pdf, lo trovate se lo sfogliate. Allora può muoversi oppure può eseguire un'azione, non può fare entrambe. Inoltre non ha accesso alle azioni bonus e nemmeno alle reazioni. Al decimo livello trova conferma l'aura di coraggio del paladino. Invece all'undicesimo livello c'è una novità. In pratica ciò che prima era chiamato punizione divina migliorata, ora invece viene chiamata colpi radiosi. Però c'è una piccola grande novità. Innanzitutto questo diciamo miglioramento degli attacchi, dei danni che fa il paladino quando colpisce un nemico, viene esteso anche i colpi senza armi. Quando invece nella quinta edizione i colpi senza armi erano in un certo senso sacrilevi, comunque banditi dalla classe del paladino, che poteva usare sì certamente per i colpi senza armi, ma non poteva sommarci la punizione divina. Invece ora sappiamo che ciò si può fare. Saltiamo i livelli in mezzo e andiamo direttamente al quattordicesimo livello. Perché al quattordicesimo livello il vecchio tocco purificatore è stato cambiato con una sorta di tocco ristoratore. Vediamo cosa fa questo nuovo tocco ristoratore. Beh, innanzitutto ti dà la possibilità, consumando cinque punti ferita, di curare le seguenti condizioni. Quindi accecato, ammagliato, il nuovo Dazed, quindi confuso, credo, poi assordato, spaventato, paralizzato e naturalmente estordito. In precedenza invece che cosa faceva? Prendiamo il manuale. In precedenza il tocco purificatore invece permetteva di terminare un incantesimo su se stesso, su una creatura consenziente. Per finire, al diciottesimo livello l'aura di protezione si aumenta fino a 9 metri di raggio, esattamente come nella quinta edizione. Quindi cosa troviamo in questo nuovo paladino? Troviamo delle conferme, delle migliorie e alcune piccole variazioni. Diciamo che probabilmente, credo che il grosso riguardi proprio la punizione divina come incantesimo utilizzabile con l'azione bonus. Ma a questo appunto sapete che dovete cercare l'altro video. Quindi incantesimi fin dal primo livello, più cariche di incanalare divinità, ottimo per tanti poteri, un po' meno per la percezione del divino, anche se almeno non è che si adoperava tantissimo. Bene la weapon mastery e carrucia anche l'idea, insomma, la possibilità di evocare il proprio destriero una volta al giorno se ne avete bisogno, senza consumare per slot, cioè insomma avete in un certo senso la magia gratuita perché dovete proprio andare in battaglia per perderlo più di una volta il destriero della vostra cavalcatura. E non grandissime differenze rispetto a prima. Certo l'imposizione delle mani si fa con l'azione bonus invece che utilizzare l'azione e quindi questa è una piccola miglioria, ma sempre piccoli particolari. Il grosso appunto l'hanno investito proprio sulla punizione divina. Ed ora andiamo a vedere invece le sottoclassi. Parto ad analizzare i giuramenti dei paladini dal giuramento degli antichi. Il giuramento degli antichi lo trovate nel manuale del giocatore a pagina 100. Questo giuramento ha subito un leggero ma significativo restyling. Ad esempio andiamo a vedere. Gli incantesimi sono rimasti esattamente quelli. Quindi gli incantesimi che dava il giuramento degli antichi che trovate nel manuale del giocatore sono gli stessi proposti per questa seconda versione del giuramento del paladino e della sottoclasse del giuramento degli antichi. Poi però andiamo a vedere invece nel potere di incanalare divinità che veniva concesso al terzo livello. Mentre l'incanalare divinità collera della natura del manuale del giocatore permetteva comunque di intrapolare una sola creatura nemica, Qui il paladino in One D&D nella nuova versione dà la possibilità di intrapolare tutte le creature che sono all'interno di un raggio di 15 feet, quindi di 4 metri e mezzo da se stesso. Invece rispetto alla versione della quinta edizione non esiste più scacciare gli infedeli, che era quel potentissimo potere di incanalare divinità che comunque vi permetteva di scacciare immondi e perfino i folletti, quindi i fatati, insomma creature fatate. E questo non era male, questo è un peccato. E' anche vero che il nuovo paladino al nono livello ottiene a biurare i nemici, che quindi in un certo senso ci assomiglia ma non troppo. Nella quinta edizione il paladino al settimo livello otteneva l'aura di interdizione, che vi dava la possibilità di ottenere resistenza a tutti gli alleati all'interno dell'aura, resistenza ai danni degli incantesimi. Invece nel nuovo giuramento degli antichi il paladino offre tutti gli alleati all'interno della sua aura, resistenza ai danni di tipo necrotico, radioso e psichico. Al quindicesimo livello è stata migliorata sensibilmente sentinella imperitura. Imperitura, imperitura. E questo nuovo potere di quindicesimo livello funziona esattamente come precedente, cioè quando il paladino viene mandato a zero punti ferita e non muore sul colpo, quindi arriva morente, nella precedente edizione invece ritornava a un punto ferita, un po' come fa il mezzorco. Invece nella nuova edizione lui torna a un numero di punti ferita pari a tre volte il livello del paladino. Quindi dato che questo potere lo si prende al quindicesimo livello, il paladino torna a 45 punti ferita, così come niente. Il che sono sufficienti poi per decidere cosa fare, se continuare il combattimento lì e rischiare ancora, oppure se andarsene, insomma dipende. Al ventesimo livello il paladino del giuramento degli antichi otteneva il privilegio di classe campione degli antichi, che era un signor potere. Allora che cos'è successo con Wand in D? È stato naturalmente confermato, quindi non preoccupatevi, non è stato, anzi l'hanno perfino migliorato, l'hanno perfino migliorato. Sì, adesso vi spiego perché. Innanzitutto per poter utilizzare questo potere il paladino non deve più usare un'azione, ma un'azione bonus e quindi è effettivamente un bel miglioramento. Inoltre c'è un'altra caratteristica, ovvero sia la capacità di lanciare incantesimi che richiedono un'azione, con l'azione bonus, non è limitato gli incantesimi da paladino, ma è stato esteso a tutti gli incantesimi che il personaggio conosce. E per il resto è rimasto esattamente uguale a quello che trovate a pagina 100 del manuare del giocatore. Mi pare che sia un bel upgrade. Ed ora invece vediamo assieme il giuramento di devozione che trovate a pagina 99. Allora partiamo subito dagli incantesimi. Gli incantesimi c'è stato qualche piccolo spostamento, alcuni confermati, altri no. Diciamo che però, bene o male, uno non prendeva comunque questo giuramento per gli incantesimi, anche se comunque possono essere interessanti. Diciamo che invece al terzo livello il potere di incanalare divinità che si chiamava scacciare i sacrileghi non c'è più. E questo è davvero un peccato. Ha praticamente fatto lo stesso effetto di scacciare gli infedeli del giuramento degli antichi. Quindi probabilmente quella sorta di potere di nono livello a biurare i nemici ha un po' sostituito questa capacità di scacciare che avevano alcune sottoclassi del paradino utilizzando incanalare divinità. Invece sempre con incanalare divinità è stata mantenuta l'arma consacrata, che naturalmente però è un buon effetto di combattimento. Con questo piccolo miglioramento, ossia hanno fatto un piccolo miglioramento. Allora per utilizzare la sacra arma, l'arma consacrata, non serve più un'azione ma un'azione bonus. Quindi già dal primo turno in combattimento, azione bonus e poi andate sotto in mischia. Naturalmente avendo usato l'azione bonus non potete punire nel primo round. Questo fa parte del gioco. Al settimo livello, aura di devozione è rimasta tale quale, invece è cambiata quella che veniva chiamata purezza di spirito di quindicesimo livello, che ora invece si chiama punizione di protezione. In pratica cosa succede? Funziona però in maniera simile a quanto era purezza di spirito. Prima, se ricordate, al quindicesimo livello il paladino della devozione otteneva il seguente potere. Praticamente il paladino era sempre protetto dall'effetto che poteva essere dell'incantesimo protezione dal bene e dal male, dal quindicesimo livello. Ora invece funziona così. Quando il paladino utilizza uno degli incantesimi di punizione, gli smite spell, quindi diciamo quella piccola selezione di incantesimi, di 6-7 incantesimi di punizione speciale ed esclusiva del paladino, compreso il normale punire, tutti gli alleati entro la vostra aura ottengono mezza copertura fino all'inizio del vostro prossimo turno. Non è male, è interessante, considerato che il paladino probabilmente colpisce ad ogni turno di combattimento, punisce ad ogni turno di combattimento e quindi diciamo che protegge anche i suoi alleati in maniera consistente. E così al ventesimo livello abbiamo la nube sacra. La nube sacra anche qui è cambiata anche se leggermente. Ad esempio si mantiene il vantaggio contro i tiri salvezza, mi pare, degli incantesimi lanciati dai mondi non morti. I danni rudiosi, ecco, i danni radiosi che subiscono le creature che entrano all'interno della vostra aura non sono più fissi a 10, non sono più fissi a 10, ma diventano pari al vostro bonus di carisma più il vostro bonus di competenza. Quindi diciamo che se voi investite in carisma e salendo il livello potreste arrivare anche a farne 11. E l'ultima miglioria di questa nube sacra è che mentre in precedenza potevate utilizzarla una volta al giorno, non mi sembra poi dovete fare un riposo lungo, invece in questo caso con One D&D potete usarla più volte consumando slot di quinto livello. E non mi pare male, eh? Non mi pare male. Ultimo giuramento, il giuramento della gloria, che è uno degli ultimi giuramenti introdotti con un manuale delle regole corposo, quello di Tascia. Per cui in questa versione One D&D ha ricevuto un leggerissimo restalling. Andiamo a vedere ad esempio, gli incantesimi di giuramento sono rimasti esattamente quelli, cioè non è cambiato neanche uno. Invece poi andiamo a vedere, al terzo livello abbiamo il potere della punizione ispirante. Quindi al terzo livello il palladino della gloria ottiene Inspiring Smite. Allora, in maniera molto simile, diciamo, a quello che capitava con la quinta edizione, ogni volta che il palladino effettua un colpo con la sua punizione divina e anche con gli incantesimi di tipo Smite, quelle della lista Smite, che sono sei incantesimi, mi sembra, può spendere un uso di incanalare divinità per distribuire dei punti feriti atemporanei alle creature a sua scelta che sono entro nove metri da lui. e può naturalmente includere anche se stesso. Il totale dei punti feriti atemporanei sono pari a due dadi da otto più il livello del palladino, diviso per il numero di creature con cui lui ha deciso di dividere questi punti feriti atemporanei. Potrebbe essere uno, due o più creature. Al terzo livello migliora anche Atleta Impareggiabile. Funziona esattamente come prima, soltanto che mentre prima l'effetto nella quinta edizione durava dieci minuti, ora invece si estende fino ad un'ora. Al settimo livello troviamo ancora Aura di Alacrità, con la piccola differenza che ora è il beneficio al movimento di tre metri e ogni alleato lo ottiene sia all'interno della vostra aura. Quindi non dovete più stare vicini vicini come nella quinta edizione per ottenere questo aumento di velocità, per muovervi in formazione compatta, ma basta rimanere all'interno dell'aura. Insomma adesso fa un po' meno ridere rispetto al prima. E al quindicesimo e ventesimo livello i poteri rimangono esattamente gli stessi, cioè non c'è nessuna variazione o modifica rispetto alla quinta edizione. Due parole conclusivi su questi tre tipi di giuramenti. Allora il giuramento di devozione è stato parecchio rimaneggiato, secondo me in meglio anche se ha perso un interessante utilizzo di incanalare divinità, e poi anche il giuramento degli antichi. Ora lo trovo molto più appetibile da prima, anche se anche questo giuramento ha perso un utilizzo molto interessante di incanalare divinità. Invece il giuramento della gloria, l'ultimo che è stato introdotto nel gioco, ha proprio avuto un piccolissimo restyling che comunque lo migliorano, ma niente di che, era già abbastanza bello anche prima, senza questi piccoli rimaneggiamenti. Il mio pensiero è che probabilmente gli utilizzi di incanalare divinità non basteranno più, nel senso non tanto per l'utilizzo della percezione del divino, in quanto prima certe erà cariche, però non l'ho visto mai utilizzare tantissimo, ma più che altro qui ci sono dei poteri molto interessanti che purtroppo vi verrà voglio di utilizzarli, e l'incanalare divinità, gli slot che avete disponibili, non li avrete così tanto. Forse non mi sarebbe dispiaciuto mantenere comunque la versione del paladino, la prima versione del paladino, che vi dava degli scatti al terzo, al sesto, al decimo, al quattordicesimo, cioè il paladino di una sottoclasse, prendeva del suo giuramento, della sua sottoclasse, prendeva un indirizzo e lo completava prima di arrivare al ventesimo livello. Qui invece, esattamente come nella quinta edizione, lo strapotere del paladino viene fuori al ventesimo livello, è un livello in cui pochi vi arrivano a giocarci. Diciamo che bene o male, molti giocano ai bassi livelli, poi ad alto livello sappiamo che a causa magie ed altre cose ci sono meno avventure, certamente anche il master magari è meno propenso a fare molta più fatica per creare delle sfide consistenti per personaggi forti, come quelli di diciannovesimo, ventesimo livello, o comunque di tier 4. Allora, se escludiamo naturalmente la rivoluzione della punizione divina, tutto sommato io non credo che chi giocava prima un paladino si possa trovare ora di fronte a un personaggio completamente differente. Mi sembra che la classe sia rimasta più o meno quella con qualche piccolo miglioramento, qualche azione è diventata un'azione bonus e quindi ti consente di fare delle cose migliori. Anche i giuramenti sono stati migliorati su qualcosina e sono sicuramente più appetibili ora di quanto non lo fossero prima. Questo paladino ci ha guadagnato con queste modifiche oppure no? Beh, di sicuro la possibilità di punire una sola volta a round, attenzione non a turno, è un grosso handicap se paragonato rispetto a prima. Però qui bisogna guardarlo nel contesto di tutte le classi. Tutte le classi hanno ricevuto più o meno delle limitazioni e quindi di conseguenza bisogna capire nel complesso come questa classe legherà con le altre. Certo, a me non sembra che chi giocava prima un paladino si troverà in difficoltà a giocare con questo nuovo tipo di paladino in quanto molti livelli mantengono gli stessi tipi di poteri, alle aure sono molto simili, i poteri che danno in alcuni casi sono anche migliorati, non si adoperano più con l'azione ma si adoperano con l'azione bonus. Certamente l'incannare divinità non vi basteranno più le cariche, ne vorrete di più. E poi sarà interessante vedere anche con l'incantesimo di primo livello e con gli incantesimi divini, quindi avete accesso ad un'ampia selezione di incantesimi, che tipo di paladino dovrete fare. E poi anche naturalmente l'accesso al colpo senza armi, la possibilità di punire anche con il colpo senza armi. Insomma, staremo un po' a vedere che cosa capiterà. Naturalmente voi, se la pensate diversamente, se giocate in paladino e vi sembra che questo paladino rispetto alla quindizione sia notevolmente peggiorato, segnalatemelo nei commenti, così che quando si aprirà il link di feedback sul paladino, anche io mi posso aver fatto un'idea e posso andare a valutare e darvi consigli effettivamente alla Wizard. Cosa che potete fare anche voi, iscrivetevi sul sito di D&D Beyond, andate alla pagina dove si può scaricare questo sesto PDF e quando apparirà nelle prossime settimane il link per il feedback rispondete. Certo, non sarà una risposta di 5 minuti, dovrete rispondere in inglese, vi porterà via un po' di tempo, però penso che saranno tutte informazioni sufficienti e interessanti che potrete dare ai game designer della Wizard per creare una versione 1D&D migliore della quinta edizione. Vi invito naturalmente ad andare a vedere anche il video che riguarda la Punizione Divina e anche la Weapon Mastery. Se vi è piaciuto questo video fate mi piace, condividetelo con i vostri amici e continuate a seguirmi con affetto. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao 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 ciao.